La paracanestro è uno sport per noi donne, è uno sport dove sì bisogna essere forti fisicamente, mentalmente, ma questo non vuol dire essere maschio, vuol dire temprarci, diventare donne ancora più forti di quello che siamo. Una manciata di secondi alla fine, con il mondo tra le mani e negli occhi l'infinito, di scarpe consumate, di fiato spezzato, di giri di parole. C'è stata messa addosso questa etichetta che non riusciamo a toglierci, dove tutti ci vedono come maschiacci. Ma davvero esistono sport femminili di altri? Non sarà forse che siamo noi qui in Italia ad avere una visione distorta e antiquata di femminilità, per cui la donna deve essere aggraziata, deve essere sexy e provocante anche quando fa sport? Nello sport in generale, sui media, non è sufficiente per le donne vincere, devi vincere e essere anche bella. Lo sport in Italia è ancora un baluardo totalmente maschile, non c'è niente da fare. Prima di calciatice, prima di sportive, comunque sono una donna e mi sento tale.